Ciao a tutti! Oggi prepareremo le frittelle di fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, olio di semi, acqua, sale, fiori di zucca tagliate a pezzetti, lievito per torte salate, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, l'olio, l'acqua, il lievito istantaneo per torte salate, il sale, il pepe e la noce moscata. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungiamo il bimbi per 40 secondi a velocità 4. Unire i fiori di zucca ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto. Friggere in una padella antiaderente con abbondante olio caldo formando le frittelle aiutandosi con un cucchiaio. Frittelle di fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!